Femminile Napoli Carpisa Yamamai conquista una fantastica promozione. Sentiamo Cecilia Donadio. Valentina, credo che questa sia la gioia più bella per voi. È arrivato finalmente il sogno che noi tutti volevamo realizzare. La serie ha un traguardo bellissimo, è quello che volevamo tutti quanti quest'anno. È stato il giusto coronamento di una stagione ricca di sacrifici, di passione e soprattutto della gran voglia delle ragazze di raggiungere questo obiettivo. Napoli femminile vuole giocare a Napoli, in qualsiasi posto ma a Napoli. Se questo ci sarà, anche il nostro settore giovanile, in un paio d'anni diventato fiore all'occhiello dello sport nazionale al femminile, può dire la sua. L'anno prossimo sarà una nuova avventura, una nuova esperienza. Ce la metteremo tutte per non spigurare e daremo il massimo anche in Serie A. La Otto Caserta regge un tempo a Bologna, poi crolla sotto i colpi dei...